Gabriele è ora? Le dieci Gabriele è ora? È giorno di pranzo Gabri è ora? È ora? Ma sono le cinque, non è ora di cena? No, non è ora di cena, è ora di andartene Ma perché? Perché hai 55 anni e sei ancora qui Cercati un alloggio e vai, vai Se è arrivato il momento di comprare casa L'agenzia immobiliare 4 Mori è la soluzione ideale 4 Mori è una giovane e dinamica agenzia immobiliare Presente su tutto il territorio del sulcis iglesiente E tramite una rete di agenzie su quello sardo Efficiente e sempre in grado di soddisfare Qualsiasi domanda ed offerta economica Con professionisti qualificati e preparati In grado di proporre diverse tipologie immobiliari La 4 Mori assiste i suoi clienti nelle varie fasi Consulenza, gratuita per acquirente e venditore Pratiche di finanziamento e richiesta mutuo Fino a rogito notarile con la consegna delle chiavi dell'immobile 4 Mori immobiliare, una scelta sicura e conveniente Carlo, mi sono trovato proprio bene con la 4 Mori immobiliare Per tutte le pratiche, per l'ottenimento del mutuo Grazie davvero Gabriele, grazie a te E poi si vede che lo fai con competenza e passione È un valore aggiunto Ma la casa era la sua? Eh sì Bellissima Eh lo so, molto bella Mi è quasi dispiaciuto lasciarla Se è per questo puoi continuare a viverci con me dentro Se mio marito vuole Gabriele, queste sono le chiavi della casa Grazie a te Auguri Grazie Grazie Carlo